alleluia risorta alziamoci in piedi alziamoci in piedi diamo un applauso al signore che è risorto alleluia grazie signore alleluia alleluia è risorto amen accomodatevi è risorto alleluia e oggi festeggiamo la pasqua di al tuo vicino buona pasqua di risurrezione buona pasqua di risurrezione alleluia pasqua pasqua cosa significa pasqua vediamo chi è che lo sa cosa significa pasqua passaggio passare oltre andare oltre passare oltre il termine pasqua significa proprio passare oltre la prima volta che viene usato questo termine viene usato nell'esodo nel libro dell'esodo esattamente nel capitolo 12 versetto 13 e versetto 14 leggiamolo insieme il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete e quando io vedrò il sangue passerò oltre pasqua passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percoterò il paese d'egitto quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'eterno lo celebrerete di età in età come una festa di istituzione perpetua ecco quando compare la prima volta il termine pasqua che significa passare oltre viene usato in occasione dell'ultima piaga vi ricordate sicuramente tutti abbiamo visto il film dei dieci comandamenti dieci comandamenti del film di mosè come si chiamava esodo forse qualcosa del genere ecco dove parla delle dieci piaghe in occasione dell'ultima piaga l'ultima piaga qual era l'ultima piaga era la morte dei primogeniti la morte che doveva toccare tutti i primogeniti l'unico modo che aveva di non toccare i primogeniti del popolo di israele era questo di ordino a mosè di prendere un agnello di prenderlo il primo mese il decimo giorno del primo mese e il quattordicesimo giorno di scannarlo ammazzarlo cucinarlo per la propria famiglia famiglia mangiarlo insieme a delle erbe amare e dei pani azimi ma non solo il sangue dell'agnello doveva essere messo fuori dagli stipiti delle porte negli architravi immaginate questa porta questa porta doveva essere pitturata del sangue dell'agnello in modo tale che quando sarebbe passato l'angelo della morte vedendo il sangue sullo stipite della porta della casa del popolo di israele degli ebrei fosse passato oltre ecco cosa significa pasqua passare oltre oggi noi perché festeggiamo la pasqua chi è la nostra pasqua gesù è la nostra pasqua gesù è stato l'agnello simbole che gli ebrei hanno realmente scannato un agnello gesù è stato l'agnello che è stato ucciso per noi e il suo sangue è posto gli stipiti di questo cuore del tuo cuore nel cuore di ognuno che crede e l'angelo della morte la morte che il salario del peccato passa oltre a noi a me perché c'è il sangue dell'agnello perché c'è il sangue dell'agnello quindi noi sappiamo che oggi cristo è la nostra pasqua oggi cristo è la nostra pasqua e per mezzo del suo sangue siamo salvati dalla condanna quello che è successo in egitto 1500 anni prima della venuta di gesù quindi 2500 per 1500 anni fa quello che è successo in egitto e quello che è successo al calvario quando gesù è morto e poi quando quella tomba è stata trovata vuota ha un effetto sulla nostra vita oggi ha un effetto straordinario e quello che è successo non è che è stata la nascita di una nuova religione quando gesù è venuto ed è morto per noi ed è risorto per noi non ha dato inizio a una nuova religione alla religione evangelica o alla religione cattolica la religione cristiana assolutamente no quello che è successo è che dio è intervenuto a favore degli uomini a favore del suo popolo ed è straordinario perché questa sera vorrei parlarvi brevemente vogliamo parlarvi brevemente di quello che è successo perché effettivamente quello che è successo non è la nascita di una religione allora permettetemi di fare permettetemi di fare una piccola premessa sapete come nasce una religione come nasce un movimento politico una filosofia politica ci sono se voi fate uno studio vedrete che ci sono delle caratteristiche che tutte le religioni tutti i movimenti tutte le filosofie politiche hanno in comune e questi sono alcuni punti che sono diciamo sempre gli stessi c'è un problema nel popolo c'è malessere la gente sta male ci sono dei problemi delle divisioni delle intolleranze sociali diciamo così a un certo punto si alza un leader un leader che può essere non so maometto che può essere siddhartha per il buddismo che può essere non so mao tse tung per la cina si alza questo leader e cosa fa incomincia a parlare di un cambiamento e nascono tutte così le religioni il leader diventa incomincia a essere famoso la gente lo segue il leader da delle degli slogan delle frasi da delle immagini che le persone sentono non so come alcuni politici che adesso ci sono anche qui in italia no dicono delle frasi che interpretano quello che è il bisogno della maggior parte della maggior parte delle persone la gente per esempio adesso vuole sicurezza vuole ordine vuole che non ci siano confusione per le strade e allora si alza un leader dice questo è così con la religione tutte le religioni nascono allo stesso modo cosa succede poi che questo leader viene divinizzato se voi vedete per esempio i cinesi hanno un'adorazione per mao tse tung oppure in corea del nord vi ricordate come come adorano questi leader e allo stesso modo le religioni prendono non so il maometto di turno il si data di turno e lo divinizzano o fanno come se fosse una persona straordinaria e c'è questa caratteristica un po in tutte le religioni poi il leader muore perché alla fine succede così muore il leader e i suoi seguaci danno una struttura a quella che è l'idea il pensiero del leader ma c'è una grossa differenza col cristianesimo allora se tu prendi il cristianesimo e lo metti in queste in queste organizzazioni questa organizzazione sociale vedrai che il cristianesimo non c'entra niente c'è qualcosa di molto diverso e questo pomeriggio è bene che noi possiamo ragionare su questo un attimino qual è la differenza fondamentale tutti gli altri le religioni le filosofie le filosofie politiche i movimenti sociali hanno una cosa in comune delle idee una filosofia un tentativo di cambiare le cose e hanno delle idee come obiettivi gesù non ha fatto così sapete cosa ha fatto gesù leggiamo giovanni 14 6 gesù gli disse io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me gesù non è venuto a dire guarda c'ho un'idea che può cambiare le cose e questo sistema politico può cambiare le cose questa religione questa fede può cambiare le cose gesù è venuto a dire io posso cambiare le cose io sono io sono lui ha detto io sono lui ha dichiarato di essere dio lui ha dichiarato di essere il messia lui ha dichiarato di essere l'unica via lui ha dichiarato che sarebbe morto per mano dei peccatori e ha dichiarato che sarebbe risorto vedete la differenza è che gli altri mettevano delle idee mettono delle idee lui ha messo se stesso al centro di tutto questo vedete la differenza perché lui o è un grande bugiardo o è veramente quello che dice di essere dio lì dio onnipotente colui che è venuto si è incarnato ed è morto per ognuno di noi e questo è molto è importante che noi cristiani ma anche i non cristiani comprendiamo questa cosa è così c'è una grossa differenza gesù ha detto di essere dio allora o lui era un grande menzognero o lui veramente è dio e noi crediamo che lui è il signore della gloria alleluia poi ha detto lui una cosa straordinaria non solo ha detto io sono sapete che quando lui diceva io sono stava dicendo io sono dio perché sapete qual è il nome uno dei nomi di dio è Yahweh che significa io sono e lui quando diceva io sono stava dicendo io sono lì dio di abramo lì dio di sacco lì dio di giacobbe e guardate cosa dice in giovanni 11 25 dice qualcosa di straordinario dice io sono la resurrezione la vita chi crede in me anche se muore vivrà non solo dice che era la vita ma dice che è la la resurrezione lui è la resurrezione ha detto di se stesso che lui era la resurrezione la resurrezione e perché credo che gesù è risorto perché crediamo che gesù è risorto il racconto evangelico non ha ascolta bene le caratteristiche di una montatura il racconto evangelico se leggi matteo marco luca giovanni il racconto degli evangelisti matteo marco luca giovanni non ha le caratteristiche della montatura ed ora ti spiego perché possiamo dire questo che il racconto evangelico non può essere un fake non può essere una montatura punto numero uno leggiamo giovanni 20 verso 1 e 2 il primo giorno della settimana la mattina presto mentre era ancora buio maria maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta al sepolcro aspetta prima mi fermo un attimino chi è andata al sepolcro maria maddalena secondo voi perché è andata al sepolcro maria maddalena al mattino prestissimo e c'era ancora buio sapete perché è andata al mattino presto perché il corpo di gesù era stato avvolto nelle nelle fasce da due uomini quindi è andata a controllare che avessero fatto un buon lavoro perché una donna è andata a controllare che due uomini che erano giuseppe darimatea e nicodemo avessero fatto un buon lavoro da buona donna al mattino presto e c'era ancora buio torniamo al nostro verso allora corse dopo che maria maddalena vede che il sepolcro la pietra era stata tolta allora corse verso simone pietro e l'altro discepolo che gesù amava che giovanni che racconta e disse loro hanno tolto il signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo tutti gli evangelisti matteo marco luca giovanni raccontano che questa donna ripeti con me donna ancora donna è andata al sepolcro e ha visto che gesù non era più nella sua tomba ecco perché questo racconto non può essere un fake ecco perché il racconto evangelico non può essere una montatura ai tempi di gesù e poi per tanti altri secoli la donna era considerata meno di meno meno di meno la donna non aveva nessun valore quando facevano gli incontri nella sinagoga le donne stavano tutt'altro parte dietro a una grata mi sembra di vedere alcune chiese oggi le donne non potevano testimoniare in un tribunale figuriamoci testimoniare verbalmente quello che avevano visto della risurrezione eppure giovanni e anche matteo e anche marco e anche luca hanno scritto che le donne la donna è stata la prima a vedere la tomba vuota la pietra spostata e la tomba vuota è stata la prima ad arrivare quindi questo mi fa capire storicamente lasciamo perdere tutte la nostra esperienza spirituale poi ci arriveremo ma mi fa capire che questa non può essere una montatura perché ai tempi di gesù le donne non erano considerate quindi invece giovanni ha scritto esattamente questo il primo giorno della settimana la mattina presto mentre era ancora buio maria maddalena è andata al sepolcro ha visto è andata a chiamare in un racconto evangelico non ricordo quale evangelista ma dice che è andata a dirlo e nessuno le ha creduto non l'hanno creduta normale ok non l'hanno creduta perché era la testimonianza verbale di una donna questo mi fa capire che che il racconto evangelico non è una montatura ed ecco perché io credo che gesù è risorto anche in base a questo se tu e dio ai tempi avessimo dovuto scrivere i vangeli non avremmo usato una donna come primo testimone della risurrezione perché non aveva nessuna credibilità per la narrazione dei fatti era negativo che fossero delle donne le prime ad avere trovato la tomba vuota se avessero tolto il racconto delle donne dai vangeli questo racconto sarebbe stato molto più credibile ai tempi per le persone dell'epoca ecco perché credo che non è una montatura il vangelo dal punto di vista storica degli scritti però ora vi svelo un segreto prendete nota una cosa molto importante sapete davvero ma davvero davvero qual è il motivo per cui scrissero che le donne furono le prime a trovare la tomba vuota semplicemente perché le donne furono le prime a trovare la tomba vuota questa è la verità le donne furono le prime a trovare la tomba vuota ecco perché credo che gesù è risorto fratelli quanto ci raccontano queste donne ma adesso non è più così vero sono cambiate le cose le donne non sono più messe sotto i piedi forse magari succede un po' al contrario a volte addirittura mi è arrivata notizia che anche in cielo stanno cambiando un po' le cose sapete che c'è san pietro c'è san pietro alla porta no lì e lui riceve tutte le persone che arrivano lì è arrivato un autobus di uomini di maschi di mariti e pietro gli ha incominciato a dire ma voi prima una volta le donne adesso mi fate comandare dalle donne ha detto adesso vediamo mettetevi su due file ha detto pietro su questa fila a destra tutti quelli che hanno ubbidito la moglie e non sono stati veri uomini e qui sulla sinistra invece quelli che sono stati veri uomini allora tutti tutti si sono messi da questa parte tranne uno che si è messo di là da solo e pietro ha incominciato a dire a quelle persone questo in cielo mi è arrivato il fax e ha incominciato a dire vedete voi non siete veri uomini dovete essere come questo qui avete visto come questo si è comportato lui è stato un vero uomo e poi gli ha chiesto gli ho detto allora per favore dillo a tutti come mai ti sei messo su questa fila e lui si è alzato e ha detto ma san pietro non lo so mia moglie mi ha detto devi mettermi in questa fila qua quindi non è più così come era una volta meno male il racconto evangelico non ha le caratteristiche della montatura ecco perché credo ancora che gesù è risorto perché un altro motivo è perché tutti i discepoli gli apostoli appaiono come dei codardi della gente che aveva paura leggiamo insieme Marco 14 50 e 52 che dice allora tutti lasciatolo se ne fuggirono un giovane lo seguiva coperto soltanto con un lenzuolo e lo afferrarono ma egli lasciando lasciando andare il lenzuolo se ne fuggì nudo nudo gli evangelisti stessi che hanno scritto questa cosa il racconto di quei giorni di Gesù hanno scritto di se stessi come dei codardi lo leggiamo anche in Marco 14 70 e 71 e ancora poco dopo coloro che erano lì dicevano a Pietro certamente tu sei uno di quelli anche perché sei Galileo ma egli prese a imprecare a imprecare e a giurare non conosco quell'uomo di cui parlate Pietro grande uomo di Dio poi diventato ma in quel momento tutti loro Gesù è rimasto da solo Gesù è andato alla croce da solo Gesù è rimasto da solo è andato alla croce da solo credo che il racconto evangelico non ha le caratteristiche della montatura e credo che Gesù è risorto perché chi ha scritto queste notizie ha enfatizzato il fatto vero che tutti gli apostoli e quelli che erano più vicini a Gesù si sono comportati come dei codardi e sono scappati un altro motivo per cui credo che Gesù è risorto e credo che il racconto evangelico non è una montatura non è un fake è perché dopo la risurrezione dopo che i discepoli gli apostoli e quanti hanno seguito Gesù hanno visto la realtà della sua risurrezione e tutti questi erano pronti a morire per testimoniare dell'Evangelo tutte queste persone hanno poi visto la risurrezione di Cristo hanno visto la realizzazione hanno aperto gli occhi si sono ricordati cosa che non avevano ricordato quando sono andati a vedere la tomba vuota sia Giovanni che Pietro hanno guardato dentro Giovanni aveva paura di entrare poi sono entrati hanno visto le fasce e anche il sudario che Gesù aveva li hanno visti lì piegati non hanno hanno creduto che Gesù che il corpo di Gesù era lì ma non hanno pensato è risorto hanno detto chissà forse non so cosa non avremmo pensato hanno pensato chissà dove l'hanno messo ma dopo che hanno visto la risurrezione perché Gesù si è presentato a loro erano pronti a morire per il Cristo risorto erano pronti a morire leggiamo Atti 4 da 1 a 3 mentre essi parlavano al popolo qui parla degli apostoli giunsero i sacerdoti il capitano del tempio e i saducei indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente perché era già sera persone che avevano scelto deciso di seguire Cristo e avevano scelto di morire anche erano disposti a morire molti di loro sono morti martirizzati molti di loro sono morti anche in prigione per dare testimonianza della risurrezione del Cristo ecco perché credo che Gesù è risorto e credo fermamente che la parola di Dio che gli scritti evangelici non sono una montatura credo che Gesù è risorto e che il racconto evangelico non ha le caratteristiche della montatura anche perché a volte dobbiamo essere onesti a volte il Vangelo ci racconta di Gesù e ci presenta Gesù in una maniera abbastanza strana cioè se Luca Matteo Marco Giovanni si fossero messi d'accordo non avrebbero scritto alcune cose non le avrebbero scritte a queste cose vi faccio l'esempio vi ricordate quando Gesù riceve notizia che il suo amico Lazzaro stava morendo stava male era malato vi ricordate nel Vangelo cosa succede che Marta e Maria erano anche loro questa famiglia era molto amica di Gesù mandano dei messi da Gesù e gli vanno a dire guarda vieni presto perché Lazzaro sta male sta male e Gesù fa una cosa stranissima Gesù invece di dire ah andiamo subito c'è Lazzaro che sta male andiamo aiutarlo cosa fa? non è che lo fa morire apposta ma comunque aspetta si ferma come siamo amici Gesù tu hai detto che ci ami tu hai detto che ci vuoi bene hai detto che sei dalla nostra parte hai detto questo hai detto quell'altro ora io ho bisogno di te e tu non arrivi ti mando a chiamare e non vieni ma che cosa stiamo giocando qua a carte non so se a voi vi è mai capitato questo di essere in una situazione per cui avete bisogno di pregare il Signore magari siete in una situazione di emergenza chiedete Signore ti prego intervieni Signore ti prego intervieni Signore ti prego intervieni ma Gesù non ha risposto Gesù è andato al momento giusto io credo che se Giovanni avesse potuto togliere questa parte l'avrebbe tolto dal Vangelo perché è qualcosa che ci presenta Gesù in maniera strana un Gesù che sputa negli occhi al cieco un Gesù che prende mette la sua lingua nella lingua del muto vedete che Gesù tante volte viene presentato in una maniera che neanche loro capivano per quale motivo ma loro hanno raccontato i fatti stavano raccontando veramente i fatti quando Gesù si presenta da Marta e da Maria dice io sono la resurrezione e la vita Marta gli sta dicendo sì Gesù tu sei la resurrezione e la vita ma intanto mio fratello è morto sembravano solo parole poi è arrivata la potenza di Dio poi è arrivata la potenza di resurrezione e Gesù in quel momento ha fatto qualcosa di straordinario ha risuscitato Lazzaro ma prima i cuori di quelle donne erano spezzati da quel dolore ma il Signore Gesù aveva un progetto straordinario poi ci sono diverse cose che mi fanno capire che la resurrezione e sto parlando sempre di fatti storici razionali poi parleremo dell'aspetto spirituale sapete una cosa la Chiesa se voi guardate la Chiesa vi rendete conto che non può essere altrimenti che Gesù Cristo è risorto sapete perché innanzitutto se vedete chi è stato scelto da Gesù per portare avanti questa missione straordinaria gente che lo aveva tradito come ha detto il pastore gente che non aveva preparazione gente che aveva combinato guai di ogni tipo ma Gesù ha scelto loro e la potenza della resurrezione si è mossa in loro per trasformare la storia dell'umanità e c'è una cosa straordinaria ancora adesso la Chiesa una cosa che mi colpisce voi sapete che la Chiesa cristiana se voi guardate i vari movimenti le parti della Chiesa vedete che ognuno ha una idea diversa su questo su quell'altro su quell'altro ancora e se io chiedo a voi qui questa sera se io vi chiedo sono sicuro che avremo delle differenze fra di noi voi penserete una cosa penserete un'altra e questo mi parla che noi del fatto che noi siamo riuniti siamo insieme non perché abbiamo la stessa filosofia perché la pensiamo allo stesso modo siamo riuniti insieme perché stiamo seguendo lo stesso Messia risorto il Signore della gloria risorto lui è risorto veramente e lui è a capo di questa cosa straordinaria che è la Chiesa noi non abbiamo un vicario sulla terra di carne e ossa vero? noi non ci crediamo a questa panzanata noi crediamo che il vicario di Cristo è lo Spirito Santo che è qui sulla terra e Gesù Cristo è vivo è vegeto e regna sulla sua Chiesa non c'è altra spiegazione e il fatto che ancora adesso dopo duemila anni 1970 anni ancora la Chiesa sia in questa forte espansione voi lo sapete che la Chiesa cristiana e non sto dicendo delle Chiese storiche sto dicendo della Chiesa come noi è leggevo un rapporto sociologico è il movimento il gruppo sociale che ha la maggiore espansione che sta avendo la maggiore espansione della storia dell'umanità non c'è stato mai un gruppo sociale religioso politico che sia cresciuto con questo ritmo straordinario adesso siamo 600 milioni circa e non si sa quanti milioni si stima che siano intorno ai 150 milioni i credenti in Cina e nella parte anche nel nord della Corea eccetera quindi vedete che c'è la Chiesa sta crescendo in maniera straordinaria e se vi guardate intorno vi rendete conto che l'unica possibilità che veramente la Chiesa cresca è perché Gesù è veramente risorto e sta regnando lui nella sua Chiesa ed è qualcosa di straordinario io credo che Gesù è risorto e questa è la parte che mi piace di più perché l'ho sperimentato avevo 16 anni e mezzo era il primo giugno del 1980 e la mia vita è cambiata è stata stravolta dalla presenza di un Gesù vivente dalla presenza di un Gesù che è risorto io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana ho sempre sentito parlare di Gesù era un personaggio che viveva con me in casa perché i miei genitori sono ancora adesso fedeli servitori dell'altissimo ricordo mia mamma andare evangelizzare con il pancione dove c'era dentro mia sorella Katia il pastore che è adesso a Torino e andavamo a evangelizzare in bicicletta lei con il pancione io seduta dietro in piedi nella bicicletta la graziella e mio fratellino davanti nel cestino e andavamo a evangelizzare mia madre si fermava ai semafori a dare bigliettini della chiesa ed era una grande evangelizzatrice insieme a mio padre un grande predicatore della parola di Dio quindi ho sempre sentito parlare di Gesù ma era rimasto un personaggio della storia un bellissimo personaggio una bellissima persona che faceva parte della mia famiglia ma io per lui ero una nipote non ero una figlia fino a quando la mia vita è stata cambiata fino a quando ho detto Signore Gesù se vuoi fare qualcosa anche per me ero seduta in fondo sotto una tenda avevo sentito un canto bellissimo mi ricordo della predica non ricordo una parola ma ricordo che quella sera io ho detto c'è qualcosa qua che io devo conoscere che io voglio conoscere e ho detto Signore Gesù se tu lo puoi fare anche per me io ti sfido io sono andata al Signore con sfida non sono andata mi riconosco che ho bisogno di te sono andata con sfida ma dentro il mio cuore sapevo che avevo bisogno di lui appena io mi sono accostata a lui ho sentito il desiderio di avere quella santità che mi avvolgeva ho riconosciuto che ero persa e senza di lui non potevo fare un altro passo e la mia vita è cambiata in quel giorno la mia vita in quel giorno è cambiata ho sperimentato la potenza che c'è nella resurrezione del Cristo perché lui era vivo era vicino a me quella sera stessa non solo io ho dato la mia vita al Signore e lui se l'è presa e se l'è custodita per 40 anni quasi ma quella sera stessa lo Spirito Santo mi ha riempito mi ricordo e penso anche mio marito si ricorda che lui era il batterista di quel gruppo di cui mi piaceva la canzone io facevo dei salti altissimi perché ho incominciato a saltare a danzare nessuno mi aveva detto di farlo ho incominciato a parlare in lingue nessuno mi aveva detto di farlo ma c'era lo Spirito Santo forte su di me c'era la potenza della resurrezione su di me quella stessa potenza che è risuscitato Cristo dai morti era in me e stava vivificando il mio corpo mortale e stava vivificando la mia anima e stava vivificando il mio spirito quel sangue prezioso che c'era negli stipiti delle case degli ebrei ai tempi di Mosè e della decima piaga quel sangue prezioso dell'agnello che è diventato Cristo era da quel momento segnato nella stipite del mio cuore in quel momento la mia vita è cambiata e per cosa? perché Gesù è risorto perché Gesù è risorto non ha cambiato la mia vita una filosofia io non avrei mai dato la mia esistenza tutta la mia vita avevo 17 anni ora ne ho quasi 56 non avrei dato tutta la mia vita se non fosse per un Cristo risorto un Cristo risorto un Cristo risorto che ha potenza di trasformare e di cambiare non so se avete visto i film americani quando mettono gli danno la Bibbia per giurare nel tribunale qua abbiamo una Bibbia io posso mettere la mia mano qui e dire io sono testimone del fatto che Gesù Cristo è risorto mi interessano molto le parti sociali storiche razionali ma io sono testimone non oculare ma di più del fatto che Gesù Cristo è risorto e anche io vi darò due parole sulla mia testimonianza io ero messo male provate a pensare a una persona messa male provate a pensare alle persone che conoscete che sono messe male bene quelle erano le persone messe molto bene in confronto a me probabilmente ero veramente messo male ma ero messo male nel senso che non ero in grado più di fare un ragionamento sensato il mio corpo era completamente distrutto rovinato spiritualmente ero in una condizione allucinante ho guardato negli occhi mio fratello un giorno gli ho detto tuo fratello Roberto è morto gli ho detto e stregoneria occultismo droga violenza la mia vita era veramente un inferno la sofferenza era tremenda soffrivo di giorno e cercavo di che venisse speravo che venisse la notte per dormire pensare di riposarmi e soffrivo di notte perché la notte era un'angoscia tremenda per me e speravo che arrivasse il giorno era una sofferenza tremenda e non c'era possibilità di guarigione i miei genitori mio papà perché mia mamma non c'era più mio papà ha speso soldi mi ha mandato da medici mi ha mandato da uno psicologo un luminare non c'era speranza non c'era niente da fare non c'era una religione che poteva cambiare la mia vita non c'era un medico non c'era un uomo non c'era una filosofia un giorno mi hanno detto guarda che Gesù Cristo è vivo e può fare qualcosa per te io mi sentivo un maestro di religioni perché studiavo le scritture studiavo scritture sacre anche di altre religioni pensavo di sapere chissà che cosa ero gonfio come come un pallone proprio anche se stavo male ma quelle parole hanno incominciato a fare breccia nel mio cuore e mi ricordo esattamente una sera sono andato mi hanno portato in una chiesetta una piccola chiesetta saremmo stati forse sette otto persone era un pomeriggio e il pastore era un pastore molto strano aveva non so se avete mai visto nei film americani quelli che hanno il cappello piatto con la barbetta solo qui nel bordo i mennoniti era un pastore mennonita e questo uomo questo uomo così mansueto così dolce era in mezzo a drogati noi eravamo drogati delinquenti gente che aveva combinato di tutto e di più c'era uno che era uscito dal manicomio criminale da poco di tutti i colori eravamo sei sette ma facevamo per settecento e quell'uomo con quella sua dolcezza mi ricordo che su una lavagna nera ha detto guarda c'era il peccato che ti separa da Dio ma Gesù è morto per te e siccome lui è risorto tu puoi essere totalmente liberato guarito rinnovato trasformato io non lo so che cosa è successo perché non avevo neanche la lucidità per scegliere ma ho detto signore ti do la mia vita se puoi fare qualcosa per me se c'è una sola speranza io ti do la mia vita sai cosa è successo che Gesù il risorto è venuto nella mia vita e ha cambiato completamente ogni cosa lui mi ha guarito mi ha liberato mi ha rinnovato mi ha trasformato mi ha reso alto biondo con gli occhi azzurri no ma ha cambiato il mio cuore che è la cosa più importante e mi ha dato una vita nuova e sono passati quasi 40 anni io dovevo morire sapete una cosa io sapevo che stavo per morire la mia famiglia stessa aveva perso speranza su di me avevano detto questo qua da un giorno all'altro ci arriva la telefonata non c'era speranza ma Gesù Cristo è risorto e io oggi posso testimoniare che Gesù è risorto perché lui l'ha fatto con me mi ha risuscitato io sono veramente un morto risuscitato per cui io so che lui veramente è risorto alleluia e questa stessa potenza che c'è nella sua risurrezione è per noi oggi fratelli e sorelle leggiamo insieme Fesini 1 da 18 a 20 che dice egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza rileggo qual è verso di noi che crediamo verso di noi che crediamo tu credi quindi è verso di te che credi l'immensità della sua potenza questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo romani 8 11 voglio leggere anche e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà vivificherà anche i vostri corpi mortali darà vita ai nostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi quindi questa è la funzione oggi per noi credenti per te fratello per te sorella se ti senti sconsolata se ti senti stanca abbattuta che non hai più carte da giocare che ti sembra che tutto è finito ricordati che la potenza della sua resurrezione è capace di trasformare la tua situazione in te che credi abita lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo dai morti quella potenza abita in te e vivificherà anche il tuo corpo mortale gli darà vita al tuo corpo mortale darà vita al tuo spirito alla tua anima come è stato con me come è stato con chiunque crede quindi ti invito a prendere forza in questo non sei solo non sei sola Gesù è morto per noi ma è risorto è questo che lo rende unico è questo che lo rende forte è questo che lo rende potente perché lui è risorto oggi ci sono tante tombe da andare a visitare di tanti dei e di vari di tante brave persone di tanti personaggi che possiamo anche chiamare santi o sante ma c'è la tomba ci sono le ossa alcuni sono mummificati e addirittura sono messi in una bara di vetro li possiamo vedere alcuni li pregano ma sono morti sono morti sono morti Gesù Cristo è l'unico che è risorto è risorto e cosa significa che è risorto significa che oggi è vivo e lui è qua e lui è vicino a te significa che è vivente significa che conosce te personalmente a parte che ti conosceva prima come abbiamo visto l'altra volta in effesini c'è scritto che lui ci conosceva prima della fondazione addirittura del mondo figurati se non ti conosce oggi figurati se non conosce il bisogno del tuo corpo della tua anima del tuo spirito quella potenza potenza che c'è nella sua risurrezione abita in Cristo e abita in te prendi forza in questo prendi consapevolezza prendi coscienza che lo spirito di Dio abita in te la stessa forza che ha risuscitato Cristo dai morti abita in te alleluia voglio chiedervi di alzarvi in piedi voglio leggere l'ultimo versetto in primo corinzi capitolo 15 versetto 21 alleluia infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte Adamo che peccato così anche per mezzo di un uomo Gesù Cristo è venuta la risurrezione dei morti ora quello che è molto importante oggi sia se tu credi sia se tu non credi voglio dirti che Gesù Cristo è risorto è la stessa potenza come diceva il pastore la stessa energia che ha tirato fuori Gesù da quella tomba che ha fatto di nuovo attivare il suo corpo che ha messo nuovamente lo spirito dentro di lui la forza dentro di lui per cui lui è potuto alzarsi incontrare i suoi discepoli stare con loro per tanti giorni parlare con loro ministrare loro la stessa potenza la stessa energia oggi è a tua disposizione perché lui è morto per darti una nuova vita ed è risorto per darti vittoria completa sopra la morte se tu non hai mai ricevuto Gesù questa sera se tu non hai mai fatto veramente un passo nel quale tu hai detto Signore io voglio la vita della resurrezione dentro di me forse questa sera questa sera di Pasqua chiamiamola così questa sera di Pasqua forse è il tuo momento per ricevere Gesù Cristo come tuo personale Salvatore per ricevere Gesù e avere una vita completamente nuova per avere la potenza della resurrezione dentro di te e io questa sera vorrei prendere qualche istante adesso vorrei chiedervi di chiudere i vostri occhi e lasciamo che lo Spirito Santo che è qui in mezzo a noi lasciamo che Gesù Cristo il Risorto che è qui in mezzo a noi possa amministrare ai nostri cuori possa parlare ai nostri cuori Alleluia Alleluia gloria al tuo nome Signore voglio dirti se tu senti che la tua vita è scarica e hai bisogno di avere rinnovate dentro di te le forze la potenza della resurrezione se tu hai bisogno che lo Spirito di Dio vivifichi il tuo Spirito questa sera magari credi ma senti che le tue energie spirituali sono all'umicino io questa sera voglio pregare per te voglio pregare che la potenza dello Spirito Santo la potenza della resurrezione di Cristo la stessa potenza come abbiamo letto che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti possa ravvivarti darti vita darti forza quindi voglio chiederti se tu desideri vogliamo pregare per te vogliamo pregare che la potenza della resurrezione di Cristo possa vivificarti quindi vieni qui davanti e se tu hai sentito parlare di Gesù una, due volte dieci volte ma non hai mai veramente dato la tua vita al Signore se non hai mai veramente fatto un patto con Gesù Cristo di mettere la tua vita nelle sue mani per sempre io ti voglio invitare a venire qua davanti Grazie mille grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.